ma otto state andando sta sigaretta perchè giù per te giù per te giù per me giù la ecco ecco la varambochia stai pezzuue progio stai pezzuue tu hai chiuso che ti voleva giù la che ti voleva giù la quanto stai facendo oh yeah ecco andrata accendela ecco ragazzi viste l'argo eh speriamo che non butta no no che butta forse anche sfiga eh ma la caccia a casa non la raccordiamo Dio cane in giro hai caccia di video normale per favore per favore per favore per favore per favore Amadeur questo da ando con gli bagni adesso io devo andrizzare la cosa su x x x x x hamster con la cagna no? non la cagna 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 come si la tenaglia tua la tenaglia quella è la cagna come una tenaglia non la tenaglia vediamo che fa con tutte e due mi serve non la cagna non la cagna non la cagna che forza cercate l'uccello che meccanico vuole aver fatto sempre lo sai se ero entrato insieme che vi ha le caccia mia mettici le borbette se ci tagliamo se ci tagliamo cambiamo anche l'olio e anche il tagliante ma nemmeno vado nella vostra strada siamo scelta che casca tutti ruate questa si chiama tenaglia ma tu con l'ideaio che ci fai tu in giro con l'ideaio quella è la cagna cin 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 ma ormai nero dice che sta arrivata la cucina ahahahah il corriere ha fatto un po' l'abbozzato ahahah questi cinesi che materiali belli che c'hanno vabbè che doveva fa' un costo d'alluminio o che faceva? non è troppo se ci amo il cannello se ci amo il cannello se ci amo il cannello venire alla Europa va bene non è troppo non è troppo non è troppo non è troppo e vorrei